fine primo tempo tra lm team contro black scasso un teggio 3 a 1 per lm team andiamo da postiglione del black scasso postiglione 3 a 1 per gli avversari deve essere un pochino sfortunati perché avete già stato giocando con uno in meno però tutto sommato una buona partita sono dei cosa c'è da migliorare non lo so perché siamo arrivati un in meno stiamo cercando di proteggere ma dobbiamo segnare questo è proprio in bocca al lupo diamo adesso dal numero 9 dell'lm team da zazzaro zazzaro 3 a 1 per voi tutto sommato una buona partita si restate agevolati perché sta giocando con un nome in più però diciamo comunque meritate per questo primo tempo si è una buona partita loro spiaciuto per il loro infortunio però siamo stati bravi ad approfittare di questa occasione di fare subito il vantaggio e di andare sul piano cosa c'è da migliorare in questo secondo tempo dobbiamo fare un po più attenzione difesa e dobbiamo concretizzare un po di più in attacco va bene in bocca al lupo a dopo ragazzi siamo qui nel dopo partita tra Luca Megali team contro black scasso partita terminata con un altro punteggio al favore del Luca Megali team punteggio ricordiamo di 8.00 da 1 stiamo qui con i due migliori in campo alla mia sinistra MVP del match Staiola la mia destra invece per il suo il portiere Kuka Kuka partiamo privati una buona partita nel primo tempo siete stati un pochino maneggiati a causa dell'infortunio, avete giocato addirittura nel finale con due domini in meno, forse questo è un primo penalizzato. È stata una partita difficile perché nel secondo tempo sono fatti mai due di loro e giocare in cinque su questo campo è molto difficile, poi complimenti agli avversari che comunque sono forti, ho fatto il possibile con tante di quelle parate, però il risultato non è cambiato, complimenti comunque agli avversari. Un applauso per tutti, bravo, bravo. Tutto sommato la tua è stata una buona prestazione, peccato che c'era la Raiola che era imbattibile. Peccato perché forse con gli uomini alla pari forse potevamo vedere un'altra partita. Vabbè, ce la potevamo giocare meglio, non dico vincevamo, però ce la potevamo giocare meglio. Se vuole venire con noi a disposizione. Vuoi dedicare a qualcuno la prestazione? Tu qua. A me stesso, ma pezzo. Ma c'è altro in solito? E' un pochino. Ma pezzo. Raiola, una doppietta per te oggi, veramente su quella fascia imprendibile per gli avversari. Com'è visto oggi il match? Abbiamo giocato bene, la squadra si è ripresa. Un po' di sfortuna negli avversari, però complimenti a me. Secondo te cosa c'è? Ancora qualcosina da migliorare in questa squadra? Dobbiamo giocare ancora un altro po' insieme per affidarsi di più. Va bene. Bocca al lupo, Rossi, per dedicare a qualcuno la prestazione? Alla squadra. Va bene. Bocca al lupo. Dammi guando. Sì, ma non guando, dammi. Sì, ma guarda, ti siamo alessiamo. Alla due. Ah! Ah!